Anche quest'anno la Camera di Commercio Chieti Pescara ha deciso di assegnare 10 borse di studio agli studenti più meritevoli per la settima edizione del Digital Marketing. Il Master, ricordato il direttore del corso Walter Damario, è rivolto alle aziende che vogliono formare personale interno, agli operatori del settore che vogliono aggiornarsi e agli studenti che vogliono investire in questo mondo. La scorsa edizione i partecipanti sono stati 34, il 100% dei partecipanti dell'ultima edizione disoccupati all'inizio del percorso formativo hanno trovato impiego al termine del Master. Il Master partirà a gennaio, possono partecipare soprattutto i volenterosi perché il Digital Marketing è una disciplina dove non si smette mai di apprendere, dove non si smette mai di doversi confrontare con nuove esigenze. Ma è indirizzato principalmente a studenti e a persone che sono dentro l'azienda e che si occupano di marketing. Il Master di 140 ore inizierà a gennaio 2022 e terminerà a giugno. Nel Master saranno affrontati tutti i temi legati al web marketing, gli strumenti, i social network, l'e-commerce, la web and social reputation, le tecniche di storytelling e copywriting. L'Executive Master, realizzato con il supporto del punto di impresa digitale Chieti Pescara, rappresenta un punto di svolta nel percorso intrapreso e ben si inserisce nei programmi della Camera di Commercio sui temi dell'alternanza scuola-lavoro, ha dichiarato il presidente Genaro Strever. Per questo motivo anche quest'anno l'ente ha deciso di aiutare i 10 ragazzi più meritevoli mettendo a bando 10 borse di studio a copertura totale del Master. È un Master che produce tecnici di qualità, professionisti disposti a dare un contributo importante alle aziende dove vanno a lavorare e il nostro dovere come ente camerale supportare tutte quelle iniziative che può migliorare la nostra produzione.